Ciao a tutti ragazzi, vi sembrerà strano, ma ci troviamo al 13esimo Gran Premio. Sarà il nostro Gran Premio di Monza quello che ci attende, e molto probabilmente voi invece vi attendevate la gara del Belgio sul circuito di Spa, ma purtroppo ci sono stati dei problemi con il mio computer che non ha memorizzato le riprese del Gran Premio. O se vogliamo dirla tutta, le ha memorizzate anche troppe volte. Mi spiego meglio, in pratica credo che avrò fatto il Gran Premio del Belgio tra 10 e 15 volte, dal primo all'ultimo giro, o meglio, dal primo quasi all'ultimo giro, perché ogni volta mi crashava il gioco, e mi ritrovavo quindi con una gara incompleta, e quando rientravo qui nel gioco dovevo ripeterla nuovamente. Quindi niente, quando poi sono andato per effettuare la registrazione del nuovo video, il Gran Premio sono riuscito a portarla a termine, la sedicesima o diciassettesima volta, ma quando sono andato per cercare nel computer non l'ho trovata perché avevo finito i giga sull'hard disk. quindi ragazzi, purtroppo niente, vi posso comunque assicurare che sono arrivato primo, anche nel Gran Premio di Spa, è stato emozionantissimo partire dalla sedicesima posizione e risalire pian piano fino alla prima. Seconda posizione è arrivato Jenson Button, terza posizione è arrivato Mark Webber. Bene, vedremo di continuare con il nostro campionato dal tredicesimo Gran Premio, che si svolgerà appunto in Italia. Chiediamo quindi di leggere un pochino di mail, vediamo un po' cosa ci dicono Dice, ciao mister, recentemente ti era stato offerto un contratto da parte della Sauber, sfortunatamente mi hanno appena comunicato che hanno deciso di ritirare la loro offerta. Sono dispiaciuti che la trattativa non sia data a buon fine, ma ti fanno un grande bocca al lupo per il futuro. Ma veramente sono stato io che ho rifiutato. Qui appunto abbiamo le gare, le informazioni per la gara di Monza e si preannuncia si preannuncia delle qualifiche bagnate e anche la gara piovosa. Qui sono i soliti dati, qua come potete ben vedere ho fatto il miglior giro in gara. Arrivando primo. E poi le ulteriori. informazioni degli addetti alla mia carriera. Forza vediamo di partire. Ah bellissimo. Allora qui cosa c'è? mi chiede di selezionare il pilota da voler battere. Credo. credo di sì. Va bene. Chiamo Lewis Hamilton. ne hai di fiducia in te stesso eh? è certo che ho fedeci a me stesso. Bene sì, ho dovuto in pratica selezionare un'ulteriore concorrente per la mia carriera. Ok. Vediamo di svolgere le qualifiche. qualificarsi per la prossima sessione non dovrebbe essere un problema quindi non andare oltre il limite. non dovrebbe essere un problema. Grazie a tutti. 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 I tempi nel primo settore sono buoni ma perdi molto terreno nel secondo. Sei guardi a secco di carburante cerca di effettuare un pit stop entro due giri. Grazie a tutti. I tuoi tempi nel primo settore sono buoni ma non riesci a essere altrettanto veloce nel testo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mancano 5 minuti alla fine della sezione. Il tempo nel primo settore. La sessione è finita. Grazie a tutti. Grazie a tutti.